Alzi la mano chi la scorsa sera stava per spaccare tutta casa perchè non serviva mezza applicazione Si questa qua è proprio la mia esperienza con il sistema android che è fatto con il culo perchè io era una semplice sera e stavo editando il mio video Cosa succede? Si bloccano tutte le app Quindi io sono stato mezz'ora, e dico mezz'ora A cercare di scaricare un'altra applicazione E poi Dopo mezz'ora ce l'ho fatta E poi il giorno dopo si è bloccata di nuovo Comunque fino a 10 minuti fa in realtà non lo sapevo manco io come sbloccare le app Però adesso che lo so ve lo racconto a voi O se almeno non smadonnate più Allora bastano 3 semplicissimi passaggi Quindi questo video durerà un nanosecondo probabilmente Una volta che siamo su Play Store dobbiamo schiacciare le 3 lineette Le mie app e i miei giochi E dobbiamo disinstallare proprio questa applicazione Android System Web V Ora a me dice appunto aggiorna perché l'ho già disinstallata Quindi disinstallatela perché è proprio questa merda che vi fa A bloccare le applicazioni E ora come potete vedere se andiamo su Google Cerchiamo Davi 187 Esce un coglione quindi vuol dire che funziona come vedete Ok io in realtà non ho più tanto da dirvi Quindi non lo so Cioè nel dubbio lasciate un like per la Caritas E vi saluto Cioè se volete iscrivetevi Anzi iscrivetevi perché altrimenti vi picchio Ci vediamo nel prossimo video che vi do lì Ciao 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 Ciao